Con la guerra e i rincari che mettono a rischio la disponibilità di cibo made in Italy, scatta la corsa delle idee anticrisi dei giovani agricoltori che si impegnano per dare risposte concrete ed innovative alle difficoltà che stanno compromettendo il loro futuro. Questo è quanto afferma la Coldiretti in occasione del Via alle iscrizioni all'Oscar Green 2022. Il premio all'innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l'economia dei propri territori e raggiungere l'obiettivo di sovranità alimentare in un paese come l'Italia, oggi fortemente dipendente dalle importazioni dall'estero. Al premio Oscar Green, promossi da Coldiretti Giovani Impresa, sarà possibile iscriversi fino al 30 aprile 2022. Direttamente sul sito giovaniimpresa.coldiretti.it La prima categoria energie per il futuro e sostenibilità premierà quelle imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile che tutelano, valorizzano e recuperano e che rispondono ai principi di economia circolare. Ed ancora la campagna Amica promuove e valorizza i prodotti made in Italy attraverso la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo, volte a favorire l'incontro tra impresa e cittadini.